Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo alcuni minerali delle fluoriti, provenienze grube e clara dalla foresta nera, Germania. Qui si tratta di un pezzo abbastanza imponente. Ecco qui un'altra fluorite, questi sono pezzi più piccoli e la provenienza e sempre la grube clara in foresta nera, Germania. Qui i cristalli sono molto precisi. Buona visione e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie.